Signori, voglio dare il benvenuto a tutti voi e ne sono molto felice. È bello avere di nuovo tanti amici in questa casa, tanti amici in questa casa. Avevo preparato questo discorso ma... Beh, siamo tanti amici, beh, siamo tanti amici. A pagare in questa istanza, a pagare in questa istanza. Trai il tuo alimento, e siente che il vento tocca il mio corpo. E se potessi cambiare il tempo, non sarai morto. Te extraio, come te extraio. Per quelle persone che hanno perduto la sua parella, a un ser amato, a sus hijos. E questa canzion, desde il corazon, di Extraio Velo, Dìa, Dio, Ioan, Male. Numero 1 per 4 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 Perché? Perché? Non mi rompe per cano. Non mi rompe per cano. Non, non, non. Non toi a moi. Non mi rompe per cano. E adesso Ananna.